Anche quest'anno la Valgrana di Scarnafigi donerà una forma di piemontino da 34 kg ai primi nati del nuovo anno. A parlare di questo è con me in frequenza proprio Franco Viraghi. Bentornato! Buongiorno! Si rinnova dopo il successo dello scorso anno, quello che è già diventato oramai una tradizione. Qual è il valore simbolico di questa iniziativa? Il grande legame che la Valgrana S.P.A. ha con il territorio della provincia di Cuneo. Questa magnifica provincia che purtroppo ha troppo pochi nati. Abbiamo pensato l'anno scorso di dare un segnale simbolico, quello di fare un dono ai primi bambini nati nell'anno. Quest'anno lo abbiamo ripetuto e intendiamo ripeterlo anche per gli anni successivi. Vogliamo dare anche un segnale su quella che deve essere la buona alimentazione delle future generazioni. Perché mangiare prodotti sani e genuini fatti nel nostro territorio e in plus anche per la crescita dei bambini. Assolutamente un messaggio direi più che corretto. Del resto insomma la qualità del Piemontino è cosa nota? Sì, noi abbiamo un'azienda che punta tutto sulla qualità. A partire dalla qualità della materia prima che è tutta locale, tutta piemontese. Il latte arriva dalla provincia di Cuneo e dalla provincia di Torino. Percorre un percorso breve prima di arrivare al nostro casificio dove viene lavorato e prodotto e stagionato questo formaggio. Quindi è una filiera cortissima di grande qualità. Siamo in attesa di sapere chi sono i primi nati in provincia perché il premio andrà ai primi tre bambini nati in provincia di Cuneo. E al primo bambino nato nel comune di Scarnafigi. Il comune dove risiede la nostra azienda. La prevenzione non sappiamo ancora quando verrà fatta perché siamo in attesa di sapere quando nascerà il primo bambino di Scarnafigi. In provincia di Cuneo sappiamo benissimo che il giorno dopo sono tutti nati. Ma in un comune di duemila abitanti non è detto che nasca subito. Questo dovremmo vederlo. Poi combineremo una festa nella nostra azienda, nei nostri magazzini di stagionatura. E proprio nei magazzini di stagionatura, come l'avamo fatto l'anno scorso, faremo la premiazione. E noi l'anno scorso c'eravamo. Io ricordo molto bene la bella festa che fu fatta in occasione dei primi nati del nuovo anno. Quest'anno si festeggeranno i nuovi nati del 2019. Naturalmente a decidere il giorno della premiazione saranno un po' loro. In particolare appunto il nuovo nato di Scarnafigi. E quindi rimaniamo in attesa di questo nuovo arrivo. E noi ci risentiremo quando questo evento avverrà. Per far sapere ai nostri ascoltatori quando appunto avverrà la premiazione. Grazie per essere stato con noi. Come sempre è un piacere averla in frequenza. Grazie a lei e buongiorno a tutti.